Devi consultare la tua posizione fiscale? Previdenziale, contributiva o assicurativa della tua impresa? Inviare una pratica in comune o in camera di commercio? Partecipare ad una gara d'appalto? Richiedere un finanziamento pubblico? Oggi sempre più le pubbliche amministrazioni ti offrono la possibilità di dialogare online e accedere ai loro servizi direttamente dal tuo pc, dal tuo tablet o dal tuo smartphone. Grazie all'identità digitale le password non sono più un problema. Non hai bisogno di richiedere, ricordare o aggiornare tante credenziali diverse perché con Speed, il sistema pubblico di identità digitale, hai un'unica chiave di accesso a tutti i servizi online della pubblica amministrazione. E se sei un imprenditore, con Speed accedi anche ai servizi delle camere di commercio che con impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore, ti mettono a disposizione gratuitamente in ogni momento tutti i documenti e dati ufficiali della tua impresa. Con impresa.italia.it hai la tua azienda sempre in tasca. Puoi consultare la visura anche in inglese, atti e bilanci presenti nel registro imprese, il fascicolo d'impresa della tua azienda, le pratiche presentate agli sportelli unici delle attività produttive, lo stato dei pagamenti del diritto annuale e tanto altro. Quali sono i vantaggi di avere tutti questi documenti costantemente a tua disposizione? Non hai più bisogno di procurarti con anticipo la visura e altri documenti ufficiali della tua azienda. Ad esempio, quando in banca ti vengono chiesti documenti o informazioni sulla tua impresa, puoi accedere con Speed direttamente dal tuo smartphone o tablet a impresa.italia.it e condividere subito i documenti richiesti in quel momento. Se non hai ancora la tua identità digitale Speed o CNS, richiedila subito alla tua camera di commercio e vai su impresa.italia.it. Il tuo cassetto digitale è già pieno di informazioni che ti aspettano.